A casa non c'è niente di bello come si vede nei film. Le onde non sono grandi come quelle dell'Hawaii. Anche tu fai surf! Aspetta! Non l'ho mai visto, sarà una spia! Sei già morto! Mi dici perché gli arabi ci odiano? Ci odiano perché pensano che abbiamo rubato la loro terra. Ed è vero. Lo conosci quel ragazzino? Sembra che lo sappia fare bene, vero? I miei genitori mi hanno detto di non parlare con gli arabi, lo sai, no? Sì, lo sanno tutti. Mai parlare con gli israeliani. Pensi solo a giocare con il tuo nuovo amico? Sto solo imparando a surfare! Vattene! Non puoi lasciarmi avere qualcosa a dire che sono mio! Abbiamo solo due possibilità. O rimangono loro, o rimaniamo noi. Se non sei un traditore, provacelo! E non c'è una terza possibilità. Sulla Terra ti sembra di essere in prigione, ma in acqua non ci sono più confini.